Dolcetto o scherzetto? Io dico dolcetto per tutti, anche per i bambini che non possono congiare glutine. Ecco perché in questo video troverai due ricette, un muffin al cioccolato fondente senza glutine e dei biscottini friabili senza glutine. Così la notte di Halloween o comunque durante le feste di Halloween stiamo tranquilli al 100% che possiamo regalare i nostri dolcetti a tutti, ma proprio tutti i bambini. Se ti piace questo video lasciami un like e iscrivimi qui sotto se magari hai qualche domanda da fare oppure se ti è piaciuta questa ricetta. E mi raccomando iscriviti al canale per non perderti nessun'altra ricetta. Andiamo a vedere come preparare questi dolcetti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.